Secret Invasion è davvero il punto più basso dell'MCQ? Salve a tutti ragazzi, bentornati su Ciaccazioni, sono Vatario Ferrone ed oggi volevo parlarvi di Secret Invasion. Questo video sarà spoiler in quanto la serie è finita da una settimana circa e volevo ampliare un po' il discorso perché è veramente, veramente lungo. O meglio, ci saranno dei punti da affrontare in quanto Secret Invasion non ha per niente soddisfatto i fan, soprattutto il finale che ha regalato è veramente da cancellare probabilmente dall'MCU soprattutto per quanto riguarda alcuni determinati argomenti che hanno completamente distorto la continuity fino ad ora dei film Hardell. Quindi andiamo nel dettaglio, partiamo dal finale come sappiamo. James Rhodes è uno Skrull ed era probabilmente il colpo di scena più telefonato della storia delle serie tv, in quanto dopo già due puntate capiamo perfettamente che Rudy non è lo stesso che abbiamo conosciuto. E da qui già parte subito il primo punto di domanda. Perché James Rhodes è stato sostituito e quando? In quale film? Da quanto tempo è uno Skrull? Questo è stato uno dei punti interrogativi che ci hanno accompagnato e ci accompagnerà ancora per molto tempo perché, udite udite, non si è ancora una risposta. Questo è uno dei grandi problemi. Loro ci vogliono far credere che James Rhodes sia stato sostituito alla fine di Civil War dopo che è caduto durante la battaglia contro il team di Cap e quindi infatti lo vediamo che viene risvegliato e ha un camice d'ospedale. Quello che vediamo perciò in Avengers Infinity War e Avengers Endgame è lo Skrull Rhodes. Io ne dubito in quanto la scrittura e il personaggio è diversa e si vede che non è lui. Come si comporta e da quello che dice. Altro punto negativo della serie è la velocità della scrittura in quanto Secret Team Vision ha voluto raccontare uno degli albi a fumetti più appassionanti degli ultimi anni dell'MCU della Marvel per quanto riguarda la parte dei fumetti in sei puntate per i primi due episodi ci poteva anche stare un minutaggio di circa 50-55 minuti ma con quattro episodi da circa 35 minuti l'uno non potevi andare avanti a raccontare una storia che ne chiedeva almeno nove perdendo poi tempo a raccontarci altre cose tutto troppo ristretto e raccontato ai minimi termini questo fa rendere meno l'atmosfera spy drill che doveva essere la Secret Team Vision una Secret Team Vision una invasione segreta da parte degli Skrull che non si sente ogni volta che i due team Talos e Nick Fury contro il team di Gravik si danno battaglia sembrano sempre dieci Skrull contati io quando Talos ha detto che c'è un milione di Skrull nella Terra che si è immedesimato e trasformato in alcuni degli esseri umani ho pensato bello deve essere interessante la serie e invece non è stato così in quanto appunto la serie si perde in dialoghi inutili e a raccontarci per carità il passato di Nick Fury che scopriamo essere sposato con Priscilla anche lei una Skrull però è evidente che qualcosa manca qualcosa non ha funzionato ed è per questo anche che Secret Team Vision ha uno degli audience più bassi per quanto riguarda la visione delle serie tv Marvel su Disney Plus altro punto e siamo a tre riguarda Gravik un Gravik interpretato da Kingsley Benadir che era partito col piede giusto crudele e spietato con un piano ben in testa poi negli ultimi due episodi soprattutto per colpa della scrittura del personaggio è calato drasticamente cambiando di punto in bianco un piano che inizialmente non aveva non sapeva di avere probabilmente perché si capisce che inizialmente voleva diventare un super Skrull e voleva far diventare il suo esercito dei super Skrull per conquistare la terra ma il problema principale è che di punto in bianco non vuole più scatenare la terza guerra mondiale e far scontrarsi appunto potenze come Russia e Stati Uniti con le armi atomiche in quanto poi gli Skrull hanno la resistenza alle radiazioni ma vuole prendere il raccolto ovvero questa fiala con tutto con tutti i DNA degli Avengers e dei supereroi visti fino a questo momento e che hanno partecipato alla battaglia finale in Avengers Endgame un piano che sapeva solo graphic probabilmente ha cambiato idea in corsa non ci è dato saperlo perché neanche loro hanno idea di cosa diamine hanno scritto quindi un graphic che vuole assolutamente arrivare a prendere il controllo del raccorto questa fialetta che era del DNA di Avengers e non solo di tutti i nemici che si sono scontrati nella battaglia finale di Avengers Endgame siamo d'accordo però nel momento in cui nella battaglia tra Emilia Clarke quindi Gaia, la figlia di Talos e Gravik lei si trasporta e sparisce come Ghost villain che vediamo in Ant-Man and Wasp c'è un problema perché Ghost non c'è in Avengers Endgame senza contare che tutti, tutti quanti i poteri insieme rendono sia Gravik che Gaia overpower veramente impossibili da sconfiggere quindi anche da uccidere perché hanno in loro il DNA Extremis che se vi ricordate bene vediamo in Iron Man 3 quando per uccidere il villain in ditorno è stato necessario decapitarlo mentre qui nello scontro finale in un flash viene ucciso Gravik altro punto quindi che fa storcere il naso perché lo scontro che vediamo tra Gravik e Gaia è anche interessante dove vediamo i due che usano il braccio di Hulk i poteri di Capitan Marvel e tutti i poteri della famiglia di Thanos quindi Abonimo e tutto quello che ne comporta soprattutto la forza di Drax e tutti gli altri ha anche appunto l'abilità di ricomporsi di Extremis perché quando Gaia dal colpo finale a Gravik aprendogli un buco in pancia lui non si rigenera non ha il DNA di Extremis altro punto di domanda e altro punto gigantesco di domanda adesso come gestiranno il personaggio di Gaia è veramente il più forte di tutti i personaggi visti fino adesso perché ha i consiè il DNA di Hulk il DNA di Capitan Marvel il DNA quanto capiamo di Doctor Strange anche se non ha usato i poteri del Strange quindi che cosa accadrà adesso come gestiranno la questione purtroppo non ho buone aspettative in quanto negli ultimi anni le aspettative le ho completamente abbassate soprattutto dopo questa Secret Invasion perché mi ha veramente deluso il punto finale della serie è riguardo il finale un finale che vede il presidente degli Stati Uniti salvato da Nick Fury e dal personaggio Olivia Colman la la false word il presidente capisce che è stato salvato quindi da Tados da uno Skrull da un alieno muta forma e di punto in bianco bandisce gli alieni e dà il via la caccia ufficiale agli Skrull da parte dell'umanità quindi non sappiamo chi è uno Skrull chi non lo è quindi vediamo gente impazzita con i mitra che spara a politici a caso a persone vicine a chi è in dubbio e sono gli ultimi cinque minuti anche interessanti in quanto questa è la vera Secret Invasion questa è la confusione che mi aspettavo di vedere nella serie dove l'umanità impazzisce perché non sa chi è chi in lo slogan lo spot della serie di chi ti puoi fidare in questo arriviamo negli ultimi cinque minuti questo piccolo sketch che vediamo insomma quando l'umanità impazzisce è quello che avrei voluto vedere nella serie non negli ultimi cinque minuti quindi una preparazione a Secret Wars sono d'accordo però un'occasione sprecata certamente per la Marvel la serie di V si regge completamente su Samuel L. Jackson e anche la presenza di Nick Fury dopo parecchi anni come protagonista non ha aiutato lo share il pubblico a guardare Secret Invasion forse un po' saturo dei prodotti Marvel che stanno arrivando uno dopo l'altro anche con poca qualità il problema soprattutto dopo She-Hulk è che la fiducia sta diminuendo e se il prossimo The Marvel o ancora prima la seconda stagione di Loki dovessero deludere ancora i fan credo che la Disney ci penserà due volte prima di sfornare 4-5 film all'anno o addirittura due o tre serie tutte insieme insomma ho provato a racchiudere in breve quello che pensavo di Secret Invasion che per me è stata un completo fallimento soprattutto perché è stata un'occasione sprecata in quanto c'era un grandissimo potenziale si poteva fare sicuramente meglio fatemi sapere voi cosa ne pensate io vi ricordo di iscrivervi al canale se vi è piaciuto questo video o se volete altre news o altre curiosità nel mondo del cinema in descrizione trovate tutti i link che vi riportano al nostro canale YouTube Facebook Instagram per seguirci e per dirci cosa ne pensate quindi commentate noi ci vediamo al prossimo video io vi ringrazio da Ciaccazione e da Valerio Perroni ciao a tutti